Allora cominciamo dal piano d'azione del Rotary, quello che ispira le azioni del nostro prossimo futuro. Aumentare l'impatto è la prima priorità, ampliare la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e vi prego di fare attenzione a questo punto, a crescere la nostra capacità di adattamento. Noi commenteremo tutti questi punti, ma ora passiamo a quello che è il nostro futuro immediato, a Jennifer Jones, nostra Presidente internazionale. Cosa ci dice? Di abbracciare il cambiamento, non di cambiare, non di considerare, di abbracciare il cambiamento, e cioè di considerare il cambiamento come una situazione normale. Perché in un mondo che cambia così rapidamente e che cambierà sempre più rapidamente e che in questi anni ha subito delle scosse che lo hanno costretto a cambiare ancora più rapidamente, noi dobbiamo pianificare pensando che pianifichiamo per il presente, cercando di prevedere il futuro. Adattarsi e riattrezzarci per coinvolgere meglio i soci, coinvolgere i soci per conservare l'effettivo. Allora, queste due frasi più la terza riga della slide precedente citano tre volte la parola coinvolgere. Coinvolgere è il mantra di questo momento, perché dopo due anni di isolamento, di palude, di tempo sospeso, i soci si sono dispersi, si sono allentati i contatti. Bisogna coinvolgere i soci per tornare a dare vita ai club. E poi implementare diversità, equità e inclusione. E di questo parleremo fra poco. Supportare il Girls Empowerment, questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che già è in corso, perché il nostro attuale presidente internazionale lo ha proposto calorosamente. E andiamo avanti. Ecco qua, diversità, equità e inclusione sarà una commissione del prossimo anno. Sarà capitanata da Raffaella Ferraro. Se è presente la prego di alzarsi per farsi applaudire. Non è arrivata. Devo dare una piccola spiegazione. Quando nel 1989 il Rotary aprì i club alle donne, lo fece prendendo in mano la situazione con vigore. e sottopose i club a una forte pressione, insistendo perché aprissero verso le donne. al punto che i club che non avevano donne nel loro effettivo venivano guardati male, i club di sole donne venivano applauditi, con una certa incoerenza nei confronti dell'uguaglianza fra i sessi. D'altra parte bisogna dire che era l'atteggiamento di tutta la società in quel momento. Però l'atteggiamento di Crociata non è mai del tutto positivo. Per fortuna ci siamo evoluti in 30 anni e siamo arrivati al DEI, diversità, equità, inclusione. Questa politica, questo criterio è stato adottato da varie associazioni, società e si è dimostrato positivo. La definizione più bella la leggete sullo schermo. Riconoscimento della ricchezza data dalla varietà del contributo di ciascuno, chiunque esso sia. Età, lingua, stato di salute, quello che volete. E questo mi sembra un atteggiamento molto vicino ai principi rotariani. Mi spiace per le donne che non hanno più l'esclusiva della diversità, ma mi sembra che oramai questo sia un problema superato. Il soffitto di cristallo è stato bucato, Jennifer Jones è presidente internazionale. Non consideriamo più le donne l'altro sesso, anche perché oramai ce ne sono tanti altri. E il Rotary lo ha sottolineato. Passiamo quindi all'analisi della nostra situazione. Abbiamo molti punti positivi. Noi abbiamo risultati rotariani, brillanti, un effettivo in leggera crescita e ci possiamo accontentare, data la situazione. Ci saranno nuove commissioni. C'è molta voglia di ripartire. E io conto su questo, conto su di voi. Dobbiamo ripartire, dobbiamo gestire la ripartenza, incoraggiarla e indirizzarla nella giusta direzione. Ma questo lo devo dire più ai presidenti. e poi abbiamo un Rotaract molto dinamico e abbiamo l'entusiasmante compito di stabilire la collaborazione fra Rotaract e Rotary. Naturalmente ci sono anche dei punti negativi, che si possono riassumere in un colloquio poco attivo fra club e distretto. Club isolati, isolati verso il distretto ma anche isolati fra loro. Partecipazione dei soci limitata, di conseguenza soci poco formati. Crescita dell'effettivo poco dinamica. Questo è il bicchiere mezzo vuoto rispetto al bicchiere mezzo pieno della slide precedente. Sì, l'effettivo è aumentato, però, e siamo molto contenti, data la situazione, però dobbiamo puntare a una dinamica più vivace, soprattutto a una qualità più scelta. Tutti questi punti negativi si possono riassumere in isolamento. Isolamento e mancanza di colloquio. La mancanza di colloquio è grave. È grave perché non permette ai club di vivere appieno la vita rotariana. Il Rotary non è solamente quello che si fa fra le quattro pareti del club. Quello è la base, è bellissimo. Il Rotary vive dell'attività e dei sentimenti di ciascun socio, però al di là della vita del club c'è un'organizzazione immensa. Al di fuori del club abbiamo 2300 soci nel distretto. Fra 2300 soci ci sono sicuramente persone interessanti, persone con le quali vale la pena di parlare. Situazioni, eventi a cui vale la pena di partecipare. Ecco, purtroppo con l'aiuto del Covid si è formato un guscio intorno ai club, ad alcuni club, ma la tendenza del dopo Covid è questa e noi dobbiamo cercare di entrare nel guscio. Non vogliamo rompere il guscio, ma entrare gentilmente. anche perché l'autoreferenzialità dei club che può essere una cosa piacevole. Quando in un club si forma un gruppo di amici a loro fa piacere vedersi fra di loro senza sorprese e però se non c'è ricambio il club piano piano si spegne. se in un corpo le molecole non si rinnovano il corpo decade. Si spegne come idee e poi alla fine anche come effettivo. E allora che cosa vogliamo fare? Se i club sono così pigri da non guardare fuori da non parlare con noi sarà il distretto che va dentro e club perché noi dobbiamo creare un colloquio con la scusa della formazione. Non è proprio una scusa perché di formazione ce n'è drammaticamente bisogno adesso più di prima. Lo vedremo. Ma se noi ci porteremo verso i club li supporteremo faremo sentire ai club che il distretto è una risorsa che possono rivolgersi con fiducia al distretto e in questo modo speriamo di ampliare se non di far nascere un colloquio. A questo scopo l'anno prossimo ci saranno tre nuove commissioni la commissione formazione continua non è una mia invenzione non posso dire che l'ha inventata perché sarei accusato di familismo ma c'è già stata ed ha avuto brillanti risultati. Quest'anno ha un'area e un'articolazione maggiore e lo scopo oltre che la formazione che è quello appunto di gettare un ponte fra distretto e club. La formazione si occuperà della appunto formazione dei singoli soci del club portandola nella sede del club su richiesta del club e qui il ruolo dell'assistente è importante l'assistente che ha le orecchie tese per percepire la necessità di formazione le curiosità e anche per suscitare le curiosità sarà di grande aiuto a tutti noi per portare le commissioni nei club e c'è un altro aspetto che quest'anno sarà sottolineato nel piano strategico del club è previsto il piano di formazione del club e io chiederò che sia redatto e che sia messo in esecuzione e questa commissione in coordinamento con l'istruttore distrittuale provvederà a fornire la formazione del piano di formazione naturalmente chiederemo ai club di fare delle riunioni magari raggruppate per risparmiare le forze e poi la seconda commissione sarà la commissione consultiva sulle norme ah scusate dimenticavo il coordinatore sarà giovan battista mollicone se vuoi alzarti in piedi per farti applaudire grazie sono sicuro che farà grandi cose e la commissione consultiva sulle norme il cui coordinatore è silvio piccioni massimo conoscitore delle norme rotariane ti conoscono tutti però fatti vedere questa commissione anche questa non è una scusa perché le norme rotariane sono ampiamente ignorate e questo è un problema è un problema perché intanto per vivere in un'organizzazione bisogna sapere per vivere e per godere di un'organizzazione bisogna sapere come funziona ma poi perché la cattiva conoscenza delle norme crea spesso screzzi all'interno del club bisogna riconoscere che alcune norme sono di difficile interpretazione quindi questa commissione darà l'interpretazione autentica delle norme e poi per sensibilizzare i club sulle norme civilistiche e fiscali guardo Alberto che interessano le associazioni come noi e a cui dobbiamo guardare con attenzione e poi ultima la sottocommissione del gruppo commissione progetti la sottocommissione supporto ai progetti il cui presidente è Roberto Cepparotti in questa commissione oltre al presidente ci sono persone che hanno fatto progetti aperti verso l'esterno hanno trovato partner o importanti hanno trovato perfino sponsor in questi tempi di micragna hanno fatto eventi per raccogliere fondi hanno raccolto fondi con metodi moderni perché noi sappiamo raccogliere fondi ma lo facciamo come si faceva 50 anni fa oggi se uno ha un bel progetto può trovare soldi e partner in maniera molto efficace e contemporaneamente far conoscere quello che fa il Rotary non è chiedere l'elemosina è fruire di quello che il 2002 ci offre addirittura è normale pagare qualcuno che implementi una campagna raccolta fondi per noi e quel qualcuno ci guadagnerà perché fa un lavoro non è peccato ho detto peccato e ho sentito un rumore sinistro era il diavolo e quindi un altro strumento oltre alle tre commissioni per vivacizzare il colloquio è migliorare le comunicazioni interne le comunicazioni interne anche anche per la mancanza di contatto personale si sono rallentate dobbiamo utilizzare i mezzi che abbiamo a disposizione in maniera più efficiente il mondo cambia i mezzi di comunicazione cambiano ancora più velocemente ognuno assume un compito che cambia nel tempo e quindi dobbiamo usarlo per quello che è oramai per le comunicazioni rapide il sito non si può più usare e forse neanche Facebook dobbiamo imparare magari dai rotaractiani come si usano i social network io sono di un altro millennio e nonostante abbia vissuto in mezzo all'informatica con i social network sono abbastanza goffo un obiettivo vorrei raggiungere che i soci possano avere sempre a disposizione le riunioni i programmi delle riunioni che fanno i club in modo che possano scegliere e andare a sentire un particolare relatore o partecipare a un particolare evento cosa che era normale ai tempi della carta stampata e che per qualche motivo oggi si è addormentato non so consiglio alle commissioni distrettuali di comunicare direttamente con i loro corrispondenti all'interno del club questo per non intasare il presidente il quale riceve troppe comunicazioni ogni giorno e può anche dimenticare di smistarle e quindi facciamo ancora analisi partendo dalle priorità strategiche aumentare l'impatto aumentare l'impatto perché i progetti sono troppo piccoli e troppo brevi per avere impatto ampliare la portata il nostro effettivo non cresce sostanzialmente ma soprattutto i soci non partecipano per fare progetti la partecipazione dei soci è essenziale e quindi dobbiamo fare meglio i progetti dico delle banalità per creare cambiamenti permanenti i progetti devono avere una dimensione sufficiente per risolvere il problema durare nel tempo e avere dei partner di peso allora analizziamo queste tre esigenze partiamo dal classico esempio del pozzo nel villaggio che ha poca acqua il Rotary Club finanzia si scava il pozzo e quelli col secchio riescano a tirare sull'acqua bene felicità dopo due anni è insabbiato perché nessuno ha fatto la manutenzione del pozzo siamo tornati al punto di prima allora un progetto deve essere fatto con un approccio sistemico dobbiamo scavare il pozzo ma fare anche un serbatoio e una rete di distribuzione e dei locali genici che non sono meno importanti dell'acqua dal punto di vista della salute e formare qualcuno che faccia la manutenzione di tutto questo certo è un progetto molto più grande che scavare un pozzo e basta e allora bisogna che più club si mettano insieme e che il progetto si scali nel tempo noi abbiamo partecipato il mio club ha partecipato a un grandissimo progetto di 45 club di tutto il mondo in un villaggio del sud Etiopia dove piano piano questo villaggio è stato attrezzato di tutto punto e adesso funziona autonomamente fra parentesi i locali genici sono un importante atto di girl empowerment poi vi racconterò di un progetto degli effetti di un progetto simile allora durare nel tempo bisogna che i presidenti passiamo alla slide successiva bisogna che i presidenti rinunciano a una parte del loro individualismo per mettersi insieme e aderire al progetto del club perché non è il progetto del presidente e magari creare un progetto che sia la bandiera del club per anni in cui tutti i soci del club si riconoscono e se ne possono vantare anche e poi far partecipare i soci torniamo allo stesso argomento far partecipare i soci e poi vi dirò anche che riflessi torno indietro di un passo per commentare l'ultima riga avere dei partner di peso se noi diamo 1500 euro al convento di suore facciamo del bene ma i soci non partecipano le suore utilizzeranno al meglio 1500 euro ma tutto è finito là se noi riusciamo a mobilitare delle forze intorno a noi noi riusciamo a creare progetti più grandi se il nostro partner è una struttura operativa importante o non importante comunque è un effetto moltiplicatore della nostra azione il classico importante brillante esempio è Polio Plus il Rotary dimostrò dei club Rotary italiani dimostrarono che con pochi soldi si potevano fare delle efficaci campagne di vaccinazione nei paesi poveri dimostrato questo è stata fatta accettare l'idea il Rotary è riuscito a far partecipare l'OMS l'UNICEF Bill e Melinda Gates e altre organizzazioni importanti che hanno finanziato con miliardi la campagna per l'eradicazione dell'Apolio che adesso speriamo arrivi a una felice conclusione è stato il Rotary il motore iniziale è quello che ha mantenuto vivace questa iniziativa questo è il mestiere del Rotary non fare le lemosine andiamo avanti questo l'abbiamo visto e allora io avevo finito dicendo facciamo partecipare i soci e infatti passiamo all'effettivo aiutiamo commissioni noi commissioni distrettuali aiutiamo i club a scegliere dei progetti che coinvolgano i soci siano siano aperti verso l'esterno e lo ripeto siano visibili dall'esterno e allora i soci coinvolti saranno dei Rotariani motivati e saranno contenti di essere Rotariani non se ne vanno anzi chiamano i loro amici all'esterno chi vede i nostri progetti e ha voglia di fare chiede posso entrare anch'io nella vostra associazione io parlo per esperienza succede così e quindi siamo arrivati all'effettivo entrano nuovi soci riassumo questo concetto con questa slide noi facciamo dei bei progetti e questo è vero facciamoli più grossi più importanti e più visibili in modo che si conoscano e nuovi candidati saranno attirati dalla nostra associazione per iniziare per dare atto a questa idea il 26 il 27 novembre a Roma si terrà il forum delle tre commissioni i progetti le comunicazioni e l'effettivo che alla fine dovrebbe godere dei risultati di questa attività coinvolgiamo i soci coinvolgere i soci è importante come abbiamo visto come possiamo fare ripeto le commissioni come possiamo fare noi di stretto mandare le comunicazioni ai referenti dei club e mantenere un collegamento con le commissioni dei club parlando con le commissioni dei club fate sentire che le commissioni sono a disposizione dei club e invitateli a rivolgersi alle commissioni per qualunque esigenza abbiano e all'interno stesso delle commissioni coinvolgete i vostri membri cercate di scoprirne i talenti nascosti certe volte anonimi rotariani si rivelano ricchi di capacità di conoscenze di quello che serve proprio per ottenere gli obiettivi della commissione e esaurito questo argomento passiamo finalmente al rotaract integriamoci con il rotaract integriamoci è un termine riassuntivo ma non è esatto noi non dobbiamo integrarci noi dobbiamo conoscerci meglio noi dobbiamo definire i ruoli vedere chi sa fare meglio cosa e quindi dobbiamo stabilire dei canali per scambiare informazioni per conoscerci e per esaminare i problemi che sicuramente nascono da questa nuova situazione problemi che vanno risolti volta per volta e noi abbiamo una commissione ops è una commissione così energetica che la scritta si è espansa coordinata da Giulio Bicciolo che ha il difficile compito diciamolo pure ma secondo me entusiasmante di mettere insieme questi due scafi di farne un catamarano e di farli navigare paralleli su una nuova rotta ed essendo un navigatore sono sicuro che lo saprà fare al meglio e quindi dovrà definire la rotta che sarà la migliore quella che tiene conto delle capacità di tutte e due le organizzazioni dovrà rendere concreta la collaborazione poi vedremo quali saranno i mezzi deve scoprire le sinergie e insieme alla commissione effettivo deve trattare un problema abbastanza delicato il passaggio da Rotaract a Rotary è delicato perché il Rotaract ha un'età media di diciamo 25 anni il Rotary ha un'età media diciamo di 125 anni un po' meno e per un Rotaractiano entrare in un ambiente di persone molto più grandi di lui può essere difficile integrarsi questo non c'è una soluzione a questo problema la soluzione va cercata di volta in volta con una attenzione costante e poi per lavorare insieme per lavorare insieme noi abbiamo tre commissioni che poi vi illustrerò l'altra commissione importante per questa azione è la Rotary Foundation il cui coordinatore è un altro navigatore Anna Maria Bonomo perché parliamo della Rotary Foundation perché sarà un'unica commissione per Rotary e Rotaract un'unica commissione perché dobbiamo portare i Rotaractiani a livello di poter gestire le sovvenzioni distrettuali e globali perché le sovvenzioni hanno un'unica fonte e quindi uno solo può essere il distributore e anche questo per lavorare insieme per lavorare insieme è la terza volta che lo dico abbiamo tre progetti distrettuali che saranno descritti più tardi domani e oggi si occupa della diagnosi precoce dei disturbi del comportamento alimentare questa questa sindrome è diventata quasi un'epidemia è sempre più diffusa fra gli adolescenti soprattutto fra le donne e il covid ha aggravato sensibilmente la situazione il nostro intervento può essere utilissimo perché la malattia quando presa nelle sue fasi iniziali si può abbastanza facilmente curare e altrimenti porta a conseguenze molto gravi anche estreme l'altro è l'orientamento universitario e professionale e la terza è il happy camp questi tre progetti che saranno gestiti da una commissione distrettuale mista rotariani rotaractiani hanno appunto la caratteristica di far lavorare insieme soci del rotaract e del rotary lavorare attivamente ma soprattutto di essere aperte verso l'esterno parola che ho ripetuto diverse volte questa mattina perché dopo un lavoro iniziale per far conoscere quello che il rotary offre chi godrà dei benefici dell'azione del rotary dirà ai suoi amici guardate che il rotary sta facendo molto bene questo lavoro vi potete fidare rivolgetevi al rotary e così il rotary viene conosciuto oltre che per le sue riunioni a cena dove si mangia sempre molto bene non tanto mi si dice non tanto dalla platea devo fare una distinzione nelle piccole città si mangia bene a Roma noi siamo più spirituali mangiamo male va bene oltre che per le sue cene il rotary è conosciuto perché lavora sarà conosciuto perché lavora per bene per il bene della comunità e con questo ho concluso ma non ho usato queste parole a caso perché io vi chiedo facciamo il rotary per bene grazie grazie grazie